Ciao ragazzi, oggi voglio allenarmi un po' il mio allenamento specifico specifico non so dove è il mio livello perché non ho allenato da due o tre mesi e il mio corpo è di 122 kg, sono circa 80-85% del mio massimo e lo vedremo, sono molto curioso, inizio con il riso il mio record è di 57 kg ma con un buon movimento ora lo vedremo oh 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 ok oh 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 vai eh dai vai oh 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 1 2 3 4 4 5 5 6 6 Ok ragazzi, questo risultato è davvero incredibile, perché non ho trainato questo specifico training per 2-3 mesi, 2-5 mesi, più o meno come questo, e ancora ho un buon potere, e nel riso ho 10% meno, e la pronazione è la stessa, ma la pronazione penso che posso fare un po' più, perché se sei un po' exasso, per imparare troppo in riso, il tuo muscoli è freddo per fare un altro massimo, come la pronazione, ma l'ultra grip è ancora la stessa. Ora mi ricordo che il mio coach mi ha detto ogni volta che potresti perdere un po' di di potenza nei tuoi armati, un po' di potenza, ma è molto difficile per perdere il potenza della tua mano. Ma ora mi trainerò ancora la prossima settimana per questo specifico training, e credo che sarei vicino al mio massimo, come 7-5% meno, e per essere in questa off-saison è un risultato meraviglioso. Credo che quando sarò preparato per alcuni match, e quando sarò riusciti, credo che posso andare avanti ai miei migliori risultati. Grazie a tutti, ogni volta per il supporto, e stai forte.